Sono Tartare Jean-Pierre dell'azienda agricola Agribio. L'azienda è situata a Carmagnola, in provincia di Torino. Questa azienda è nata nel 2016 e poi nel 2019 è diventata 100% biologica, dopo aver fatto tutti i passaggi necessari per avere la certificazione. L'azienda è costituita da 30 ettari di cui 25 sono dedicati a coltivazioni estensive, cereali e legumi e gli altri 5 ettari sono dedicati agli ortaggi a pieno campo. Durante l'inverno andiamo a fare dell'orzo e del grano e durante l'estate soprattutto ci concentriamo sul mais e su legumi come fagiolo o piselli. Facciamo una parte di meloni, dedicato ai meloni, una parte dedicata alle angurie, una parte dedicata ai pomodori e una parte dedicata a zucchine e melanzane. L'azienda da quando è diventata biologica abbiamo riscontrato alcuni problemi come possono essere quelli di fertilità, del terreno e di malattie fitopatologiche che sicuramente nel biologico non si hanno armi chimiche col quale contrastare e quindi ci siamo affidati ad alcuni prodotti che ci hanno dato una grossa mano come i prodotti Balco. L'azienda ha scelto i prodotti del zeolite ZEP granulare che ci è servito, abbiamo notato che ha aumentato moltissimo la fertilità del terreno. Poi abbiamo utilizzato l'altro prodotto ZEM in polvere che questo mischiato con l'acqua ci è servito tramite una botta irroratrice sia come protezione per gli ortaggi con una protezione fogliare anche contro in parte contro gli insetti e anche soprattutto come aumento della produzione che abbiamo notato un grosso aumento della produzione. Un altro prodotto che abbiamo scelto che abbiamo provato è stato il Power C prodotto a base di caolino il quale abbiamo l'abbiamo provato testato su una parte di coltivazione di meloni quindi durante l'estate e l'abbiamo utilizzato in particolare per evitare le scottature contro il sole proprio del frutto stesso. Abbiamo visto ci sono stati dei grandi miglioramenti rispetto ai meloni in cui non è stato utilizzato il tale prodotto quindi anche proprio il frutto che poi serve soprattutto a livello estetico per la vendita ha dato una grande mano. L'azienda può consigliare questi prodotti i prodotti balco per tutte le aziende biologiche e anche non biologiche perché aiutano tantissimo all'agricoltura e all'agricoltore.